Eccoci per un nuovo video del mio trovento in Svizzera, oggi commentiamo questo articolo In Svizzera non è tutt'oro quello che luccica, male! Eccoci per fare una reaction, un commento a questa intervista su questo portale che noi non pubblicizziamo, non abbiamo nessuna partnership, parla di trasferimenti all'estero, vivere diversamente eccetera quindi questa è un'intervista a questa signora che si chiama Anna Lisa, adesso andiamo a vedere un po' nel dettaglio ci sono tanti aspetti da capire, chiaramente un'intervista quindi ha delle caratteristiche di carattere soggettivo ma ci sono anche delle problematiche dal punto di vista oggettivo che vengono fuori e quindi a livello informativo c'è qualche problemina quindi rimanete verso la fine perché andiamo proprio a vedere i dati se corrispondono a quello che viene dichiarato in questa intervista quindi andiamo subito a vedere un po' qua l'inizio dell'intervista l'obiettivo di questa reaction, di questo commento è duplice prima di tutto appunto andare a dare la nostra opinione quindi a volte in accordo, a volte in contrapposizione a quella del tutto legittima e da rispettare di questa signora che si è trasferita in Svizzera e poi è tornata a vivere in Italia quindi andiamo a vedere un po' le sue opinioni, la sua visione soggettiva e se corrisponde un po' la nostra la seconda appunto, come abbiamo anticipato prima, è andare a capire però nei fatti se alcune delle cose che vengono dette all'interno dell'intervista corrispondono alla realtà e quindi sono realmente informative per qualcuno che sta pensando di trasferirsi in Svizzera perché alla fine questa intervista senz'altro raccoglie appunto delle opinioni ma come questo portale insomma è adibito serve anche per informare e quindi dobbiamo capire se lo fa nel modo corretto o meno quindi ovviamente non ci leggiamo tutta l'intervista andiamo a vedere un po' i punti salienti questo serve appunto per fare un po' una sintesi se cercate in Svizzera non è tutto quello che luccica vi trovate sicuramente l'articolo su Google e ve lo potete leggere tutto se avete piacere allora questa signora si è trasferita dalla Sicilia e la prima cosa che vogliamo vedere è questa nel senso questa frase qui è a nostro modo di vedere molto pericolosa nel senso il decidere di lasciare il paese in cui si è nati e si è cresciuti si hanno gli affetti, la famiglia diciamo l'attaccamento anche della politica culturale poi c'è chi può averlo di più, c'è chi può averlo di meno e dichiarare non è stata una vera e propria decisione è stata la vita a scegliere per me è qualcosa di assolutamente sconsigliabile al nostro modo di vedere come consulenti per relocation quindi la scelta di trasferirsi in un altro paese la Svizzera assolutamente non fa eccezione deve essere una scelta consapevole con senso di responsabilità con informazioni corrette quindi non bisogna lasciar scegliere a qualcun altro o alla vita o al caso o al destino quindi questo è assolutamente qualcosa di importante poi chiaramente ognuno ha le proprie situazioni e magari qualcuno che ci è capitato poi si è trovato benissimo però appunto bisogna cercare di non capitare nelle situazioni ma cercare di sceglierle il più possibile poi sfruttare chiaramente tutto quello che sono le informazioni che si sono andate a raccogliere per adattarsi nel modo migliore alla situazione poi in cui ci si trova quindi è assolutamente importante evitare di ricadere in qualche cosa che non è una vera e propria decisione personale questa persona si è trasferita perché aveva già una parente sul posto o nello specifico nel canton Vaux quindi a Montreux che è vicino a Lausanna è una piccola cittadina direi un paesone più che cittadina abbastanza famosa perché ci sono diversi eventi è sul lago quindi anche dal punto di vista turistico è abbastanza famosa proprio a livello mondiale però comunque non è molto grande stiamo parlando di qualche decina di migliaia di abitanti un'altra cosa che insomma è un pelino delicata e che vogliamo andare a commentare senza altra quella relativa alla lingua nel senso che questa persona si è trasferita appunto in questo cantone senza conoscere di fatto il francese ecco questo è anche qualcosa che tendenzialmente sconsigliamo chiaro che se uno ha un'opportunità in una grande azienda in cui si parla inglese e quindi non serve parlare la lingua magari del posto o si viene in Ticina quindi si sa già l'italiano va benissimo per carità però il nostro consiglio è o di prepararsi prima anche se poi il tedesco come sappiamo benissimo non è la lingua principale dal punto di vista culturale almeno anche nella Svizzera tedesca ma è il dialetto svizzero tedesco quindi comunque di prepararsi o comunque di già predisporre tutto quello che serve sul posto per studiare e acquisire nel giro di 3-6 mesi almeno un livello intermedio della lingua del posto in cui si va a vivere e questo non solo per la parte lavorativa ma anche proprio la parte culturale che poi come vediamo dopo nell'intervista è quella su cui la persona appunto che è stata intervistata ha fatto un po' più fatica qui chiaramente ecco su questa domanda come si è stata accolta dalla gente del posto abbiamo qualche problemino a essere d'accordo con questa signora chiaramente questa signora ripeto ha tutto il diritto di dire le sue opinioni di raccontare la sua storia eccetera non abbiamo motivo di credere che non sia reale quindi ha sicuramente le sue impressioni però bisogna un po' rendersi conto e l'indizio di prima la vita scelto per me probabilmente è indicativo anche in questo caso nel senso che se ci si trasferisce da Montcoy-Lausanne poi a Montè che è nel Valè quindi nel Vallese che ha meno di 20.000 abitanti è veramente un paesone ecco più che una città e ci si lamenta che è un posto diverso alla montezza culturale ci stiamo parlando di un posto che comunque ha un'ora da Lausanne è un posto in cui nessuno è obbligato a vivere quindi se uno non si trova bene si può spostare in un altro comune in un altro cantone quindi è chiaro che tutto è legato al lavoro ma non è obbligatorio stare in un posto appunto che non piace all'interno di un paese quindi la Svizzera è un paese molto variegato ci sono differenze culturali enorme anche all'interno dello stesso cantone lo stesso Ticino se si vive nel Luganese è molto diverso che vivere nelle valli quindi Biasca o appunto nella parte poi verso il San Gottardo quindi anche a livello culturale ci sono delle differenze quindi bisogna sapere e bisogna essere consapevoli del posto in cui si fa vivere perché è chiaro che non tutti i posti possono essere per tutti questo come sempre è in tutta la vita se si vive a Zurigo o se si vive a Glarona sono due cose completamente diverse seppur siano due cantoni nella Svizzera di lingua tedesca a Basilea è ancora un'altra cosa a San Gallo è ancora un'altra cosa ma anche solo a livello di lingua quindi è molto importante non fare come ha fatto questa signora di trovarsi in una situazione in cui poi non è a proprio agio per sue preferenze personali noi non mettiamo in dubbio diciamo questo rispetto a dati un po' più oggettivi andiamo a vedere quello che viene detto anche come consigli e come informazioni per chi si vuole trasferire allora è facile trovare un alloggio quali sono i costi medi allora questo tendenzialmente è scorretto quello che viene detto qui nel senso che è corretto per chi è già residente ma è scorretto per chi si deve trasferire perché come sapete da variati video che abbiamo fatto per stipulare un contratto d'affitto se una persona chiaramente si deve trasferire non può farlo avendo già un permesso perché il permesso viene rilasciato dopo che viene fatta la domanda con il contratto d'affitto firmato quindi è chiaro che questo non è corretto come non è corretto anche questo nel senso che per chi è già residente viene rilasciato dal cantone è un'attestazione per eventuali debiti che ci sono non solo con l'ufficio dell'imposto ma anche precetti di aziende private quindi non hai pagato una fattura la cassa malati un'altra persona quindi chiunque può fare un precetto per un debito non pagato e viene riportato su questo certificato ma per chi non è residente non può essere rilasciato quindi non può essere chiaramente fornito per stipulare un contratto d'affitto quindi il nostro lavoro con i nostri clienti chiaramente è riuscire a andare oltre questa cosa e avere il contratto d'affitto prima di avere il permesso e poi successivamente appunto riuscire ad avere il permesso che poi chiaramente viene utilizzato per eventuali contatti d'affitto futuri e via dicendo a livello di prezzo non è scorretto diciamo mille franchi in media sì ci sono anche dei monolocali che possono costare meno si possono trovare anche nel centro della città di bene poi chiaramente dalla città se parliamo di Zurigo no se parliamo di Bellinzona senz'altro si può trovare un monolocale anche a Mino ecco per dire quindi questo è diciamo un mix di informazioni corrette e non corrette a livello di sanità l'opinione di questa signora è positivo non condividiamo il fatto che i premi siano più alti per le donne che per gli uomini a livello di cassa malati base tendenzialmente non è così il rischio non è in base al sesso quindi è un'informazione non corretta ma è in base all'età e fra uomini e donne non ci sono differenze mentre ci potrebbero essere lievi differenze per le assegurazioni complementari quindi quelle facoltative che vanno a integrare la cassa malati di base obbligatoria i servizi sono ottimi vabbè sono tutte cose che anche noi vi raccontiamo andiamo un attimo a vedere ecco come bisogna muoversi al punto di vista burocratico per via lavorare in Svizzera ora questa domanda viene fatta dall'intervistatrice a una persona che non fa questo di lavoro quindi può avere esperienza può non avere esperienza andiamo a vedere se le informazioni che dà sono corrette allora la legislazione prevede di poter rimanere in Svizzera fino a tre mesi senza avere un permesso di soggiorno che non si chiama permesso di soggiorno ma chiamiamolo così si è corretto superati i tre mesi cioè sono 90 giorni poi bisognerebbe uscire e eventualmente rientrare quindi come turista come persona che può stare in Svizzera anche in una casa secondaria senza avere un documento di soggiorno superati i tre mesi più che si consiglia un contratto di lavoro bisogna regolarizzarsi quindi bisogna andare a chiedere un permesso o per attività lucrativa quindi con un contratto di lavoro o prendere un'attività indipendente o senza attività lucrativa se si ha la possibilità quindi già questo è omesso è qualcosa che sarebbe meglio chiarire a livello di permessi è corretto che il G è quello dei frontalieri L per gli stagionali più che stagionali sì è vero che sono gli stagionali ma anche per qualsiasi persona che ha un contratto a termine non deve essere per forza stagionale quindi semplicemente un contratto che ha un termine B per gli indeterminati che sono da meno di 10 anni sul territorio non corretto non corretto questo assolutamente non c'entra nulla che sia indeterminato B può essere anche per chi non ha attività lucrativa può essere anche per chi ha una dita individuale quindi ha una posizione indipendente non c'entra nulla il 10 anni meno di 10 anni sul territorio una persona può avere il permesso B a vita quindi può essere anche in svizzera da 20 anni rinnovare ogni 5 anni il proprio permesso B senza mai chiedere il C quindi questa informazione non è corretta come non è corretta quella successiva passati 10 anni si può chiedere il permesso C per chi è cittadino UE si può chiedere il permesso C dopo 5 anni quindi dopo diciamo un primo periodo di 5 anni con il permesso B quindi anche questo non è corretta come informazione da dare su un sito che dovrebbe informare relativamente al trasferimento all'estero rispetto a che consiglieresti a chi vorrebbe trasferirsi in svizzera di pensarci molto bene non possiamo che essere d'accordo e probabilmente è uno degli errori che ha fatto questa signora però siamo completamente non d'accordo sulla conclusione nel senso definire e dare un'etichetta alla Svizzera come un paese dagli effetti freddi e sterili è completamente scorretto da parte nostra non tanto rispetto all'opinione perché uno può avere un'opinione dire io non mi sono trovata bene dal punto di vista culturale dal punto di vista dell'inserimento all'interno della comunità della società civile e via dicendo legittimo ognuno si può trovare bene o male in qualsiasi posto ma definire un paese in questo modo fra l'altro un paese che ha il 25% dei residenti come immigrati quindi che ha una multiculturalità veramente importante a livello generale che anche solo dei cittadini svizzeri come diciamo prima la parte culturale è molto molto diversificata all'interno anche delle stesse aree linguistiche quindi definire il paese dagli effetti freddi e sterili è veramente veramente qualcosa di poco edificante e poco corretto che non fa onore ecco all'intervista in sé quindi è chiaro che ognuno si deve trovare bene dal punto di vista culturale ma la Svizzera è un paese che ha tantissime diversità e ognuno si deve inserire rispetto a quello che sono le proprie preferenze rispetto a invece la parte che dicevamo prima di dati che sono profondamente scorretti e oggettivamente scorretti e che a noi per usare un eufemismo fa imbestialire e ritorniamo all'inizio dell'intervista è relativa a questa frase qui che ogni tanto ci troviamo anche nei commenti sotto i video, su facebook, eccetera la Svizzera, ok, è il paese con il più alto tasso di suicidi in Europa allora non sappiamo da dove iniziare perché è talmente assurda questa cosa e basta veramente un click per verificare i dati relativamente a questo che è veramente complesso andare a dare un giudizio su un qualcosa di talmente scorretto però la prima considerazione che vogliamo fare è relativa a e quindi? cioè se anche fosse vero prendiamo che i dati fossero veri dopo li andiamo a vedere insieme io devo considerare il tasso di suicidi in un determinato paese come KPI, come indicatore per trasferirmi in quel determinato paese cioè è un indicatore importante per capire se io mi troverò bene o meno in quel paese a nostro modo di vedere no è un indicatore come un altro che può essere influenzato da tantissimi fattori ma che non è per forza un indicatore da prendere in considerazione per un trasferimento anche perché come vedremo dopo le aree in Europa che hanno il tasso minore di suicidi sono aree che sono dal punto di vista migratorio delle aree che esportano persone e non che importano persone perché hanno praticamente attrattività zero dal punto di vista lavorativo familiare eccetera se non per un certo tipo di persone come può essere i pensionati eccetera quindi andiamo a vedere questi dati qui siamo sul sito del Eurostat intanto questo è un articolo dell'8 settembre 2023 che dichiara che le morti per suicidi in Europa e la Svizzera in questa statistica viene compresa oltre ai paesi dell'Unione Europea escluso UK dopo andiamo a vedere la cartina è calata del 14% nell'ultima decade e quindi comunque è un dato positivo però se andiamo a vedere la mappa eccoci qua come vedete UK esclusa Russia, chiaramente Belorussia, Turchia, Albania eccetera questi paesi non sono nella statistica ma i paesi fondamentali e più importanti in Europa Svizzera compresa ci sono un colpo d'occhio basta subito per vedere che la Svizzera non ha assolutamente come viene riportato qui il paese non è assolutamente il paese con il più alto tasso di suicidi in Europa quindi è qualcosa di totalmente falso fuorviante e anche è veramente una calunnia nei confronti di un paese intero che non corrisponde alla realtà quindi come vedete le regioni qui è diviso per regioni all'interno dei paesi con un tasso di suicidi appunto di morti per suicidio ogni 100.000 abitanti superiore a 17 ci sono aree in Francia ci sono aree in Ungheria ci sono aree in Lituania in Slovenia e sono tutti paesi in Polonia sono tutti paesi che hanno un tasso di suicidi superiore e di molto a quello della Svizzera anche nella seconda categoria quella fra 14 e 17 la Svizzera non c'è quindi sono sempre aree simili o contigue a quelle precedenti più si aggiungono alcune in Norvegia e Svezia e anche in Germania e in Portogallo e la Svizzera rientra in gioco solo nelle aree inferiori quindi quella 11-14-9-11 quindi rientra completamente nella media europea che è intorno al 10 se ricordiamo bene i dati quindi andiamo a vedere le regioni passano dal 10-12 il Ticino mi sembra ecco sul 7 quindi addirittura inferiore il peggiore che è il 12 nell'area quella a Berna, Basilea, Jura eccetera che anche chi se ne frega nel senso si può essere un indicatore per chi si occupa di malattie mentali si occupa di sociologie eccetera ma per chi si trasferisce cioè non è un indicatore che noi pubblicizziamo sia in positivo che in negativo per noi è relativamente irrilevante ripeto sia in positivo che in negativo cioè se voglio andare a vivere in Bretagna o in Normandia mi interessa relativamente che c'è un altissimo tasso di suicidi relativamente ad altre regioni come se devo andare a vivere in Sicilia perché invece è 4 ma se in Sicilia non c'è lavoro perché devo andarci solo perché l'età di suicidi è 4 cioè è completamente irrilevante ecco ai fini di un trasferimento all'estero quindi come vedete dato falso questo video vuole fare chiarezza anche su questo quindi quando vi capita qualcuno che scrive in giro questa cosa qui basta andare a beccarsi un semplice articolo sul sito ufficiale Eurostat con le statistiche ufficiali fino al 2020 e negli ultimi tre anni saranno rimaste piuttosto stabili poi eventualmente faremo un aggiornamento quando usciranno quelle più aggiornate ecco riportate questo perché i dati sono sempre la realtà dei fatti e non la percezione che si può avere detto ciò come sempre vi consigliamo di chiedere una consulenza preliminare non affidatevi assolutamente come anche viene detto in intervista forum, amici, parenti articoli online sono tutte un mix di informazioni corrette e scorrette quindi è difficile andare a discernere e capire esattamente per la propria situazione cosa bisogna fare chiedeteci una consulenza sono soldi ben spesi avete almeno un'idea di quello che dovete fare e poi se volete chiaramente possiamo lavorare insieme per i passi successivi che vi portano a un trasferimento in Svizzera come sempre vi diamo appuntamento al prossimo video